Quanto conta il Made in Italy per sbarcare sul mercato estero? È una cosa fondamentale di una certa rilevanza perché oggi all'estero viene premiato il Made in Italy perché sanno che il food in Italia è un food d'eccellenza, quindi di materie prime pregiate. Basta pensare che in Italia c'è il numero maggiore di DOP oppure GP e quindi premiare e valorizzare i cibi con questi prodotti tipici del territorio italiano sono quelli che fanno la differenza nel mercato del food internazionale.